allora registrazione partita buonasera buon pomeriggio a chi ci sta ascoltando ben trovati questa è la room in cui parliamo e vi presentiamo il master di primo livello in comunicazione sanitaria sono qui con me la professoressa federica morandi che la coordinatrice di altens che una delle due alte scuole che ha pianificato progettato e che propone il master in comunicazione sanitaria il dottore roberto morandi che uno dei due coordinatori del master e la dottoressa elisabetta locatelli che è l'altra coordinatrice del master e chi vi sta parlando è maria grazia franchi io sono il direttore della seconda alta scuola che è coinvolta in questo bel progetto e che al med dell'altra scuola in media comunicazione e spettacolo e non vorrei partire proprio da questo dato ci sono due alte scuole non è una cosa così ovvia che si trovano per immaginare un percorso di formazione post laurea e devo anche dire non per rivendicare un primato che questa questo progetto è nato prima della crisi sanitaria come si usa dire in in tempi non sospetti tra l'altro proprio su sollecitazione ancora lo ricordo della professoressa morandi che insomma in una riunione in cui si parlava di alte scuole certamente ma di altro lanciò appunto questa questa idea questo progetto di un master dedicato ai temi della comunicazione collegata alla salute prima della crisi sanitaria questo invece lo possiamo dire con certezza l'importanza che la comunicazione ha in relazione a un tema così complesso con quello della salute era ampiamente sottovalutata per quanto l'organizzazione mondiale della sanità già da anni sottolineasse come la comunicazione fosse il primo presidio per la salute personale per la salute pubblica diciamo che si considerava tutto sommato un capitolo non così importante adesso questa evidenza l'evidenza di questa centralità non diciamo non richiede neanche di essere commentata quello che invece vorrei sottolineare è la complessità della sfida e del compito di parlare di salute di comunicare la salute perché perché la comunicazione della salute condivide con la comunicazione tu cura una crescente complessità che nasce anche un po controintuitivamente dal fatto che abbiamo moltissimi strumenti moltissime occasioni per comunicare ma proprio la pluralità dei canali il fatto che comunichiamo sempre quindi il fatto che non smettiamo neanche un istante di comunicare e poi una serie di altri elementi che adesso proverò rapidamente a ricordare rendono davvero per il professionista per chi si vuole cimentare con questa bella ed importante appunto professione il compito molto complesso allora quali sono le caratteristiche della comunicazione tutta e caratteristiche che vengono amplificate quando si parla di salute il primo elemento come vi ricordavo il fatto che la comunicazione è continua costante non smettiamo mai di comunicare soprattutto su un tema chiave in particolare se ci si trova in una situazione di emergenza come quella della salute la richiesta di avere continua informazioni e di avere un canale costantemente aperto sul tema della salute una richiesta molto forte ma questo devo dire che riguarda qualunque altro ambito e comparto il tema della comunicazione la comunicazione oggi è come si dice 24 ore su 24 il secondo elemento che rende complesso ma anche bellissimo il lavoro del comunicatore che si vuole occupare di questo tema è la pluralità dei canali abbiamo moltissimi canali sono da un lato i canali istituzionali che continuano ad avere un ruolo chiave soprattutto un ruolo chiave quando si parla di un tema come quello della salute e con canali istituzionali penso in media tradizionale la televisione quella che si chiama in gergo la comunicazione top down e poi abbiamo i canali social che sono che si sono uniti che hanno a loro volta spesso un tratto istituzionale e che hanno regole modi anche strategie editoriali che sono non solo diverse i canali istituzionali rispetto ai canali social o o anche le forme di comunicazione bottom up ma anche molto diverse le une dagli altri quindi il compito del comunicatore è anche quello di destreggiarsi tra una pluralità di canali ciascuno dei quali a tempi modi forme stili toni differenti poi il soggetto che noi tendiamo un po a dimenticare cioè il nostro interlocutore devo dire che ci capita più spesso quando maneggiamo canali istituzionali ma la comunicazione proprio questa anzi sta persino nell'etimologia di comunicare cioè c'è una centralità che ci viene proprio suggerita dall'idea del comunicare come condividere che è data che si colloca diciamo così è sul nostro interlocutore quando noi comunichiamo dovremmo avere presente anzi dovrebbe essere la nostra prima preoccupazione di capire chi abbiamo di fronte che cosa ci sta chiedendo il nostro interlocutore di che cosa ha bisogno di quale informazione ha bisogno e soprattutto come dobbiamo o possiamo metterci in relazione è con lui altro elemento spazio sovra affollato naturalmente tutti comunichiamo dobbiamo comunicare sempre riuscire a farci sentire sta diventando sempre più complesso questo è un problema con cui ai professionisti della comunicazione si confrontano a tanti anni ma che è cresciuto in termini di intensità è un ultimo elemento o forse due è il primo è l'elemento della reputazione è quando parliamo di comunicazione alla salute la questione dell'autorevolezza è centrale lo è sempre va detto ma su un tema come quello di cui ci stiamo occupando qui è veramente rilevante quindi un'altra competenza che senz'altro va sviluppata e pienamente padroneggiata per coloro che si vogliono occupare questo tema e come gestire quello che può accadere cioè una crisi reputazionale il caso di astrazeneca ci porta o ci offre diciamo il destro un esempio facile per far comprendere che cosa appunto può essere una crisi una crisi di carattere reputazionale perché può accadere e anche quale tipo di impegno poi richiede per essere superata allora per concludere e passare la parola alla professoressa morandi io credo che per chi vuole intraprendere questo percorso la prospettiva che si apre è duplice da un lato è un percorso molto sfidante come avete come avete inteso non necessariamente diciamo così semplice però che vi consente di collocarvi e qui perdonate sono un po prosaica sul mercato del lavoro in un momento in cui il mercato del lavoro sta chiedendo proprio questo tipo di profilo professionale la consapevolezza dell'importanza per i soggetti sono moltissimi che operano nell'ambito della salute di avere dei bravi comunicatori non è mai stata più chiara ed acuta di quanto non lo sia oggi quindi c'è una grande richiesta di professionisti che abbiano questo tipo di formazione l'altra ragione per cui questo è un percorso che consiglio vivamente e che una volta che avete imparato a comunicare la salute siete in grado di comunicare qualunque altra cosa perché l'asticella diciamo la difficoltà nel gestire questo tipo di materia anche proprio per la sua complessità intrinseca di mettere le condizioni di poterli poi cimentare in qualsiasi altro ambito vi ringrazio molto io chiedo alla professoressa morandi di prendere la parola e resto qui con voi anche se mi ammutolisco grazie grazie professoressa fanchi eh buonasera a tutti e grazie di di questo invito io appunto sono Federica Morandi sono direttore delle attività accademiche e della ricerca presso Altems e sono anche un ricercatore eh sempre l'università cattolica e mi occupo di organizzazione aziendale delle aziende sanitarie allora io vi porto i saluti della dell'alta scuola e del suo direttore il professor americo cicchetti che appunto mi ha chiesto di di essere qui con voi di rappresentarlo oggi quindi ho un incarico insomma importante e e porto la seconda voce di questo bellissimo master e per noi come diceva come ricordava la professoressa fanchi eh noi siamo stati dei pionieri no nel anticipare quella che sarebbe stata poi una esigenza e un'emergenza nata qualche tempo poi successivo e perché perché abbiamo capito che queste due nature la natura del management sanitario e quella della comunicazione non potevano non stare insieme allora noi come Altems portiamo la eh la parte eh manageriale no del management sanitario perché questo di fatto facciamo noi siamo nella sede di Roma e nel campus del Policlinico Gemelli quindi siamo contaminati eh in qualche modo dalle questioni di natura sanitaria abbiamo un grande Policlinico che con cui collaboriamo costantemente e che eh è per noi anche motivo di sollecitazione rispetto a eh innovazioni o nuove sfide che il contesto sanitario eh ci porta quindi noi ci occupiamo appunto di guardare l'organizzazione e il sistema sanitario a 360 gradi con tutte le sue criticità perché eh governare un sistema così complesso come il sistema salute eh vuol dire stare attenti a molti input vuol dire guardare dentro delle organizzazioni che sono molto complicate perché anche all'interno di queste organizzazioni si creano delle dinamiche perché no anche comunicative molto complesse tra professionisti tra professionisti e pazienti ma anche tra l'organizzazione e il suo e il suo contesto esterno e quindi diventa proprio fondamentale averne una conoscenza mh a 300 a 360 gradi quindi l'apporto che eh appunto arriva da da questa dall'altra anima del del master è quella di conoscere in maniera molto approfondita il contesto perché eh a me piace sempre fare questa metafora cioè quando si entra in una stanza e si vuole dire qualche cosa eh la prima cosa importante è capire che cosa si sta dicendo no quindi entrare in sintonia a capire bene quali sono le tematiche e quindi nella costruzione di questo master abbiamo voluto portare proprio questa testimonianza cioè prima di agire di intervenire dobbiamo costruire le competenze sul sistema salute come funziona quali sono le sfide quali sono le eh appunto le criticità che si può trovare davanti una persona che eh che che deve comunicare ecco che quindi deve raggiungere efficacemente no dei destinatari inoltre poi diciamo io come studiosa di organizzazioni eh porto anche un altro aspetto su questa eh discussione che stiamo eh intrattenendo oggi pomeriggio e cioè che il contesto sanitario è un contesto istituzionalizzato cioè in cui la legittimazione che eh rispetto alle organizzazioni risentono gli stakeholders quindi stakeholders istituzionali piuttosto che clienti piuttosto che altre organizzazioni è di vitale importanza per la sopravvivenza appunto delle nostre aziende delle nostre organizzazioni sanitarie quindi questo tema della reputation è un tema che eh è proprio fondamentale per chi compete in ambiti istituzionalizzati e quindi è fondamentale ecco per chi deciderà di intraprendere questa a mio avviso bellissima carriera eh del comunicatore in sanità io sono affascinata dal mondo sanitario perché è un mondo complesso e a maggior ragione diventa complesso saper dire bene le cose saper capire quali strumenti utilizzare saper essere una voce importante e ehm davvero affidabile in un panorama in uno scenario in cui ci siamo anche noi resi conto di quante persone no dicano la propria e portino dati informazioni ma senza poi arrivare effettivamente eh a meta e quindi per eh affrontare efficacemente tutto questo ecco eh diciamo da parte eh della dell'altra scuola che rappresento arriveranno tutti gli strumenti eh per il management sanitario quindi per entrare in quella famosa stanza e capire bene che cosa si sta dicendo eh perciò ecco io eh non posso che eh essere nuovamente in accordo ed essere nuovamente contenta di far parte di questa bellissima iniziativa grazie ok allora diciamo che senza un passaggio ufficiale del testimone prendo io la parola prendi la parola per omonimmi eh io chiamo Roberto Morandi anch'io lavoro in Altems e in Altems dirigo il laboratorio eh di soft skills quindi all'interno di questo laboratorio eh creiamo percorsi formativi eh per dargli strumenti quella che io continuo a chiamare da da anni la cassetta degli attrezzi cioè riempire di attrezzi la cassetta degli attrezzi è un buon comunicatore eh fino a un certo punto mi sono dedicato alla comunicazione interpersonale comunicazione manageriale e eh come diceva la professoressa fa anche in tempi non sospetti quindi quando abbiamo ancora eh diciamo la la pandemia non aveva eh messo ancora più in evidenza il bisogno di di migliorare di perfezionare una serie di modelli comunicativi eh abbiamo pensato di fare questo master per dare a chi si occupa di a chi si si occupa già perché noi quello di cui stiamo parlando è diciamo il lancio della seconda edizione in questo momento è in corso la la prima edizione del master all'interno del quale abbiamo eh anche già dei professionisti da dei giornalisti da persone che già lavorano nell'ambito della comunicazione che hanno colto lo spunto di questo master per affinare un po' di più la loro capacità di comunicare eh la sanità cioè noi nella sanità noi dico proprio in senso più generale possibile eh abbiamo due come dire eh modelli di analisi di quello che riguarda la sanità o modelli di eccellenza perché si sono raggiunti chissà quali tipi di risultati o la mala sanità cioè si parla o nell'estremo bene o nell'estremo male della sanità la sanità invece come diceva anche la professoressa Morandi è un mondo complesso e quindi l'obiettivo di questa di questa di questo master è proprio dare degli strumenti che consentano a chi si vuole occupare di comunicazione in sanità di avere anche quegli elementi di di analisi degli elementi che consentano veramente di trasferire a un pubblico eh professore Safranchi parlava di quello che è successo con il caso AstraZeneca no ma oggi ancora al di là del 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 brand eh c'è un disordine dal punto di vista della comunicazione che disorienta poi le persone comuni voglio dire no noi già facciamo parte di un di un panel abbastanza come dire avvantaggiato perché siamo all'interno di un meccanismo di un sistema ma pensiamo a quello che diciamo è l'uomo qualunque che ogni giorno viene bersagliato da informazioni che nel giro di due telegiornali cambiano completamente cioè si dice tutto il contrario di tutto quindi obiettivo di questo master è proprio questo quello di dare la capacità di trasferire un'informazione puntuale corretta e soprattutto adeguata al target di riferimento per chiudere poi passo la parola alla collega Locatelli che lato Almed darà qualche informazione eh in più rispetto alle mie ehm cosa porta al tempo in chiave di comunicazione eh porta tutte quelle le soft skills quindi eh comunicazione interpersonale parlare in pubblico gestire la relazione interna dei team quindi per dare veramente per riempire la cassetta degli attrezzi di tutto quello che possa servire a chi si occupa di comunicazione e assolutamente d'accordo e poi passò il testimone alla collega su quello che ha detto la professoressa Fanchi ehm veramente questo master che deve essere visto come un percorso di crescita personale molto trasversale se si impara a comunicare la sanità si può comunicare veramente qualsiasi altra cosa quindi è un percorso che deve essere visto come verticale finalizzato soltanto questo mondo ma un percorso che può aprire anche altre strade al netto del fatto che mh per il nostro osservatorio eh chi il mondo sanitario che va dalla farmaceutica all'ospedaliero eh e tutto quello che gravita intorno eh ha bisogno di professionisti che sapere comunicare efficacemente quindi ci sono anche delle strade potenzialmente eh forti per quanto riguarda l'occupazione grazie dell'attenzione alla alla mia collega il testimone grazie grazie mille come anticipava il dottor Morandi io mi occupo del coordinamento didattico lato al med e diciamo in chiusura di questo nostro intervento diciamo vado un po' più sul tecnico a spiegare quelli che sono i dettagli organizzativi del master quindi cosa si deve aspettare un potenziale interessato e poi una persona che che lo frequenta vi chiedo solo un minuto di pazienza che condivido la presenza così abbiamo un po' anche visivo per i contenuti che andrò a spiegare eccoci quindi siamo appunto alla seconda edizione come già anticipata un progetto congiunto al med e altem su questo ovviamente non mi dilungo eh che eh si rivolge appunto a quest'ambito complesso quindi appunto questa sfida conoscitiva di presidiare efficacemente tutti quelli che sono i processi di comunicazione a chi ci rivolgiamo ci rivolgiamo a un pubblico molteplice composto sia da neolaureati che hanno già un interesse specifico verso il settore della comunicazione sanitaria ma parallelamente ci rivolgiamo anche a professionisti che sono alle prime esperienze o già professionisti consolidati che intendano arricchire il proprio bagaglio di competenze gestionali organizzative e comunicative quindi abbiamo diciamo anche una formula come vedremo fra poco che è conciliabile con delle attività lavorative eh la durata è quella di un master di primo livello eh accademico quindi sono 60 crediti formativi per un totale complessivo fra didattica d'aula, progetto work, tesi ed eventuale stage di 1500 ore abbiamo scelto proprio per adattarci a da una parte alle condizioni della pandemia ma dall'altra parte anche al pubblico di persone che eh lavorano eh una formula flessibile che si basa in parte su eh un'attività di didattica online fatta in streaming o con modalità di lezioni cosiddette FAD quindi video registrate ma sempre accompagnate da un tutoraggio e da progetto work, analisi di caso, testimonianze in una formula weekend in modo tale che appunto si possa anche organizzare insieme con l'attività lavorativa e prevedendo poi alcuni momenti in presenza nella sede di Roma che saranno alcuni momenti significativi o di kick off del master oppure con testimonianze o attività altamente formative come business case eh l'avvio è previsto per marzo 2022 e la chiusura poi l'anno accademico successivo eh a marzo 2023. È possibile al termine dell'attività eh d'aula svolgere uno stage professionalizzante che va a completare il percorso formativo. Nel caso in cui non fosse possibile per motivi lavorativi o di altro genere svolgere lo studio può essere eh trasformato in un progetto work seguito da un docente che va a costituire comunque un'attività altamente formativa e di eh messa in pratica delle competenze apprese in aula. Il percorso didattico l'abbiamo già un po' accennato e composto sia da corsi di scenario che vanno a dare i fondamenti dei singoli comparti dal management all'organizzazione l'economia e poi i singoli verticali di comunicazione insieme poi con dei laboratori che sotto la guida del docente consentono di applicare i contenuti appresi e si integrano poi con seminari, testimonianze, project work e attività di self assessment. Ultimo non per importanza ma perché diciamo avviene dopo una certa maturazione del percorso d'aula anche l'attività di orientamento in uscita e in placement in particolar modo poi nel caso in cui si svolga lo stage. Possibili sbocchi professionali, il mondo della comunicazione sanitaria è molto ampio con tante sfaccettature, abbiamo parlato di imprese sanitarie pubbliche, private, di aziende farmaceutiche, quindi ci sono tanti ambiti di possibile inserimento. Abbiamo provato a individuare quelli che ci sembrano i principali. Aree di impiego possono essere tutte le aree di comunicazione online e offline, le aree marketing ma anche l'area di risorse umane perché abbiamo comunque all'interno come vedremo fra poco anche dei moduli dedicati alla progettazione interna, quindi anche alla progettazione di moduli formativi che possono essere utili all'interno delle aziende per comprendere il valore della comunicazione e quindi per potenziare ancora di più la comunicazione per esempio interna. Dal punto di vista delle figure professionali le principali che vanno a riassumere il nostro percorso formativo sono il comunicatore di impresa, l'addetto all'ufficio stampa, tutta la parte quindi anche legata alle media relations, poi c'è la parte di comunicazione digitale che è molto importante ma che non sostituisce piuttosto integra e affianca la comunicazione broadcast se vogliamo tradizionale che si incarna poi in questo caso nelle figure di web editor, social media manager, digital marketing manager, anche addetto al customer relationship manager, quindi tutte le persone che svolgono l'attività di follow app di creazione delle relazioni con gli stakeholder e con poi gli utenti, ma dicevamo prima anche tutto l'ambito di formazione nell'ambito delle risorse umane, spesso i comunicatori sono chiamati a fare da formatori ai loro colleghi, pensate al tema del corretto utilizzo della comunicazione dei social media all'interno di un ospedale o di un'impresa sanitaria, occorre avere dei percorsi formativi che sensibilizzino le singole persone su come gestire i propri profili social, come comunicare e quindi è importante anche avere un'idea di come si progettano questi percorsi, ultimo non per importanza anche in questo caso tutto l'ambito del fundraising, del crowdfunding che va a completarsi poi con le attività di comunicazione istituzionale e di appunto relazione con gli stakeholder. Questi sono gli ambiti principali che noi abbiamo previsto, però possono esserci anche delle figure ipride anche in funzione della dimensione e della tipologia di impresa pubblica privata in cui si andrà a operare. Brevemente due parole sull'organizzazione in dettaglio che comunque poi è illustrata e verrà riportata anche sul sito. I moduli come abbiamo anticipato uniscono le competenze Altems e le competenze Almed, quindi da una parte abbiamo tutti i corsi e i laboratori che vanno ad approfondire le tematiche organizzative economiche, quindi organizzazione delle aziende sanitarie e sociosanitarie, economia del sistema sanitario, quelle che sono le sfide, per esempio le dinamiche demografiche, l'innovazione tecnologica, tutta la parte anche di comunicazione interna e poi ci affrancheremo invece tutti quelli che sono i corsi dedicati alla comunicazione. Dicevamo prima appunto che una volta imparato a comunicare in sanità si possono spendere queste tematiche anche in altri settori proprio perché noi andiamo a vedere tutti i verticali della comunicazione partendo a monte da temi anche non strettamente di comunicazione ma che sono collegati perché molto spesso soprattutto nel settore privato la persona che si occupa di comunicazione si occupa anche di marketing, quindi marketing dei servizi e corporate communication fino poi a sviluppare tutte le competenze che consentono di costruire il piano di comunicazione quindi anche le forme, le tipologie, gli strumenti attraverso cui questo piano di comunicazione si costruisce, la relazione tra media e società quindi in particolare poi con il ruolo dei media sociali, quindi social media e la comunicazione digitale, l'area di relazione con gli stakeholder intesi come media relation quindi giornalisti, opinion leader, online e offline che ormai sono integrate sempre di più perché si tratta di un unico attore e infine come dicevamo prima anche affondi sulla gestione della privacy e dei dati che sono componenti fondamentali in quanto bisogna capire esattamente come e quando comunicare anche quando ci sono dei dati personali e questo è un aspetto diciamo che non riguarda solo la pratica giornalistica ma anche quella del comunicatore e infine come ha anticipato anche il dottor Morandi prima la parte di soft skills e interpersonal management quindi team building, public speaking che è una componente fondamentale in quanto il comunicatore copre un ruolo di comunicazione ma è anche un ruolo di relazione perché è all'interno di dinamiche complesse e deve imparare a relazionarsi con diversi team, con quelli che possono essere gli altri reparti di gestione all'interno dell'impresa e quindi sono fondamentali anche queste doti per poter sviluppare un approccio appunto integrato e ci sembrava un valore importante da trasferire ai nostri corsisti dicevamo prima due parole sull'organizzazione della didattica dicevamo appunto una formula blending se vogliamo usare questo termine con una prevalenza della parte in streaming e di FADDA in modo tale da poter appunto organizzarsi anche in maniera più flessibile con il lavoro e una previsione di workshop con testimonianze o attività altamente formative previsti in presenza il corpo docente è interamente formato da docenti universitari, professionisti, ospiti di rilievo quest'anno abbiamo organizzato anche numerose testimonianze insieme con giornalisti, esponenti della comunicazione che ci hanno consentito di cogliere proprio anche quelle che sono le sfide più attuali della comunicazione nel settore sanitario la piattaforma è la nostra piattaforma Blackboard che diventa poi un ambiente condiviso quello che io ci tengo a sottolineare del nostro approccio rispetto al fatto che abbiamo una formula blended è il fatto che lo studente non è lasciato da solo a visionare delle video lezioni ma si tratta di un ambiente ricco in cui riproduciamo per quanto possibile l'ambiente d'aula quindi con una forte interazione con i docenti e con un tutoraggio costante anche con interventi periodici da parte mia del dottor Morandi per poter verificare il livello di apprendimento per poter parlare proprio con i corsisti della loro esperienza al master quindi diventa proprio una modalità di aggiornamento per i professionisti ma che richiede comunque un coinvolgimento e un impegno in prima persona anche per garantire un corretto apprendimento di quello che vogliamo portare avanti con il master dal punto di vista del calendario le lezioni inizieranno come anticipavo prima a inizio marzo 2022 si concluderanno a ottobre e da ottobre poi fino appunto al febbraio 2023 ci sarà la possibilità dello stagio curricolare o il progetto work sostitutivo il percorso di master si conclude poi con la discussione di una tesi che viene scritta su uno dei temi diciamo che sono stati più di interesse rispetto al percorso complessivo del master questo diciamo è un overview generale vi invito però per tutti i dettagli tecnici rispetto all'organizzazione del master per anche le modalità di iscrizione poi a rivolgervi al sito sul quale nei in questi in queste settimane stiamo anche caricando i vari contenuti rispetto alle testimonianze in modo tale che possano essere riviste e che si arricchirà proprio nei prossimi mesi anche di contenuti illustrativi dell'offerta didattica quindi diciamo a fronte di questa presentazione e se c'è qualche domanda da parte dei partecipanti noi siamo molto lieti di rispondere se volete intervenire direttamente o anche in chat quindi possiamo fornire qualche indicazione in più grazie mi pare che non ci siano non ci siano domande allora io sarei per questo passo anche per chi ci sta ascoltando confezioneremo come probabilmente avete sentito anche prima dell'avvio della registrazione una serie di pillole video in cui raccoglieremo quanto ci siamo detti questo pomeriggio e saranno disponibili sui consueti canali a partire dal sito naturalmente nella pagina dedicata al master in comunicazione sanitaria e poi insomma avremo avrete anche modo di raggiungerci facilmente utilizzando i contatti e mail e possiamo anche molto velocemente prendere degli appuntamenti quindi se aveste poi metteste a fuoco dei temi che vi interessa migliorare e approfondire direi dunque di chiudere se siamo d'accordo questo tra l'altro credo che dia a me dall'agio di entrare in un'altra room ma non voglio per questo accelerare i tempi ma soprattutto come dicevamo prima mai come oggi siamo raggiungibili sempre e persino in ogni momento dunque approfittate e approfittiamo reciprocamente di questa possibilità grazie a tutti